la storia di stasera che riguarda marco bergamo marco bergamo anche altresi detto mostro di bolzano sempre mostri qua allora marco bergamo nasce il 6 agosto a bolzano quindi non a bergamo il 6 agosto del 66 da una famiglia umile la madre è una casalinga il padre è un operaio si chiama renato mentre la madre si chiama maria e ha un fratello luigi e da subito si notano le atipicità del piccolo marco perché marco ha un forte ritardo nel linguaggio quindi uno sviluppo atipico perché marco inizierà a parlare soltanto a quattro anni ma non è l'unica problematica se vogliamo così definirla un'unica atipicità che riguarda marco perché marco soffre anche di psoriasi una una patologia della pelle nel suo caso penso che fosse una cosa psicosomatica non voglio entrare troppo uno specifico perché non sono un'esperta e poi aveva anche un problema di obesità marco era da sempre stato un bambino molto molto introverso molto chiuso che faticava tantissimo a relazionarsi con i suoi coetanei aveva degli interessi molto ristretti e anche atipici che erano nello specifico la fotografia fare foto le auto quindi anche comunque interessi molto settari i coltelli la montagna quindi anche legato e penso che coltelli inizialmente gli servissero a quello e collezionava anche libri cartoline e appunto aveva questi interessi che lo lo impegnavano tutto il giorno e aveva anche questa caratteristica di dividere tutti i suoi oggetti per per tipologia per uso e li divideva in delle scatole apposite sì qui c'è qualcosina che risuona e quindi marco si butta a capofitto nel stavo perdito mi sembra un po autistico eh sì io non voglio assolutamente permettermi di fare diagnosi non è non ne ho le competenze però 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 ci sono tantissime cose che anche a me risuonano perché parliamo appunto di una persona molto introversa che si butta a capofitto nei suoi interessi che si trincerano ehm quasi in questi e che ha difficoltà a relazionarsi con ehm con i suoi coetanei e sicuramente sono delle caratteristiche atipiche questo possiamo dirlo e anche il fatto che comunque si avesse iniziato a parlare soltanto a quattro anni quindi eh Marco era anche come abbiamo detto una persona molto grossa possente e aveva anche degli scatti d'ira che le persone intorno a lui faticavano a comprendere anche questa è una cosa che risuona l'unico suo amico nell'infanzia era il suo cane e a un certo punto si convincerà che una donna lo avesse avvelenato quindi inizia un pochino anche questa sorta di mh se vogliamo manie di persecuzione a 18 anni ehm si diploma e inizia a lavorare come manovale inizia a lavorare come manovale fino a che non lo chiamano per la leva militare in particolare negli alpini dove mh avrà degli episodi che anche lì lo faranno escludere dal gruppo perché eh soffriva di un forte sonnambulismo e aveva un comportamento masturbatorio veramente sopra le righe quindi i suoi commelitoni fanno la spia agli ufficiali dicendo facendo presente il suo comportamento e mh penso anche per deriderlo perché oggettivamente non so quanto a loro potesse importare eh che cosa facesse lui no quindi anche per penso per una sorta di bullismo cameratismo contro di lui quindi anche l'alleva militare la vive con molto disagio non riesce a farsi nemmeno uno straccio di amico e tornato dall'alleva militare lavorerà in un'officina meccanica per due anni poi lavorerà in una ditta di costruzioni e infine in una ditta di fuochi artificiali. Marco aveva un rapporto con i genitori ehm che lui dopo andrà a descrivere come normale anche se come vedremo mh tanto è normale forse non era e lui quando avrà l'occasione di descrivere questo questo rapporto li descriverà come delle persone premurose molto attente eh la madre molto più protettiva del padre il padre controllante che gli metteva anche un po' soggezione però quasi sempre giustificato tra virgolette da questa infanzia dura che aveva passato da piccolo il padre eh viene descritto come un uomo che eh vede e provvede a tutto e la madre come una donna che teme gli scatti d'ira del padre che è una persona violenta verbalmente ma non sottomessa queste vi ripeto sono le parole di Marco Bergamo e magari poi possiamo anche tornarsi dopo quindi tornato dalla leva a 19 anni Marco compierà il suo primo omicidio perché Marco nell'85 nel gennaio dell'85 nello specifico il 3 gennaio dell'85 farà la sua prima azione omicidiaria ai danni di Marcella Casagrande una studentessa di soli 15 anni che Marco aveva conosciuto in un negozio di fotografia un negozio di fotografia nella città di Bolzano dove si erano messi a parlare si erano messi a chiacchierare e Marco praticamente con la scusa di mostrarle delle foto la segue a casa sua Marcella appunto lo invita nel suo appartamento i genitori non c'erano ancora e Marco qui assiste a una telefonata che Marcella riceve al telefono di casa ovviamente durante la quale lei dice sì sì adesso vengo e esco quindi di fatto Marco subisce questo abbandono nella sua testa perché ci tengo a specificarlo semplicemente vive questo questo incontro non dal lato positivo quindi per una volta era riuscito comunque sia a avere un'interazione no con l'altro sesso con l'altro sesso ma vedendo soltanto il lato negativo ovvero il fatto che lei ha una certa se ne volesse andare per gli affari suoi quindi quello che si suppone che da questo momento Marco si inalberi e la aggredisca l'aggredisca col coltello che lui aveva sempre dietro la accoltella la prima volta da dietro e alla fine la scanna per poi lasciarla appunto senza vita a casa dove la troveranno poi i genitori inizialmente non si hanno per niente delle degli indizi su questo omicidio che rimarrà per un bel po' insoluto e che creerà molto panico negli abitanti di Bolzano e che farà evincere agli inquirenti accorti sul posto che l'assassino aveva sicuramente una buona dimestichezza coi coltelli e anche con l'anatomia umana poi passano più o meno sei mesi perché il 26 giugno dell'85 quando Marco mieterà la sua seconda vittima Anna Maria Cipolletti Anna Maria Cipolletti era un insegnante delle scuole medie delle scuole Ugo Foscolo e faceva anche la prostituta in una casa chiusa aveva 41 anni quindi un gap veramente diverso rispetto alla prima vittima e Marco anche qui si introdurrà nell'appartamento di Anna Maria e la ucciderà con 19 colpi di coltello ruverà le sue mutandine che era un'altra delle passioni che aveva anche a cose normali nel senso al di là delle omicidi lui aveva questo fetis di rubare le mutandine stese dagli stendini intorno a casa sua e era stato scoperto più volte e anche di di eseguire delle diciamo sessioni masturbatorie alle finestre quindi esibendosi nei confronti dei vicini questo era una cosa che prima mi ero dimenticata di dirvi uccide Anna Maria ruba queste mutandine e lascia i dei preservativi e dei mozziconi di sigarette lì nella scena del crimine e addirittura scriverà nella agenda di Anna Maria dove lei aveva appuntato questo appuntamento con un certo Marco scriverà Marco andato via quindi con un linguaggio veramente infantile quindi siamo ancora nell'85 passano gli anni e tra il 90 e il 91 Marco ha la sua unica relazione con una una sua coetanea che durerà sette mesi una relazione che poi lui descriverà posteriori come una relazione veramente infantile perché comunque sia loro in realtà non si conoscevano quasi per niente lui aveva veramente stra timore a fare un approccio fisico nonostante lo desiderasse molto lui parla appunto di rispetto e di paura del rifiuto quindi già iniziamo a catalogare un pochino cioè a pensare no a Marco in un certo modo quindi questa relazione che non avrà assolutamente niente di fisico ma non per una scelta consapevole dei partner ma bensì per proprio queste immaturità e questa paura questa immensa paura del rifiuto poi finirà questa relazione lui parla di alcuni errori che lei avesse fatto nei suoi confronti e altri che avesse fatto lui nei suoi e niente finirà questa relazione fino a che continuano a passare gli anni perché no scusate sì tra il 90 e il 91 ha questa relazione quando poi si arriva al 7 gennaio del 92 quando si ha la terza vittima di Marco Bergamo si tratta di Renate Rauch ho capito che Renate è un nome mezzo tedesco perché essendo molto al nord hanno questi nomi particolari Renate era una prostituta di 24 anni che aveva dei problemi anche di droga conviveva con una persona più grande di lei che l'aveva introdotta in questo mondo e venne trovata accoltellata in un parcheggio è accoltellata per 24 volte sul lato sinistro del corpo come se lei fosse seduta al lato del guidatore in un'auto Marco parlerà di questo omicidio dicendo che era andato e aveva fatto quello che aveva fatto perché si annoiava e per uscire dalla monotonia di quei giorni si troveranno anche dei tentativi di difesa da parte di Renate e lui dirà sempre che non si ricordava nemmeno come si chiamasse quando vedremo che è una bugia bella e buona perché 19 giorni dalla morte di Renate verrà trovato sulla sulla tomba di quest'ultima un biglietto un biglietto che poi verrà attribuito senza ombra di dubbio a Marco Bergamo che citava queste testuali parole allora mi dispiace ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi ciao Renate mm firmato così lui giustificherà questo doppio m come una specie di rafforzativo del nome Marco lui soffriva tantissimo anche il fatto che la madre lo chiamasse con un diminutivo che nello specifico era Marchino quindi magari in questo psicologia spicciola proprio si voleva diciamo dare un tono un po' più di spessore e giustificherà questo biglietto dicendo che lui si era pentito e lo accompagnerà anche a un mazzo di garofani e sempre tre mesi dopo perché parliamo del 21 marzo del 92 Marco mieterà la sua quarta vittima sempre una ragazza di nome Renate ma in questo caso Renate Troger spero di aver azzeccato la pronuncia che aveva solo 18 anni e che venne ritrovata in un piazzale un piazzale dove erano solite lavorare molte prostitute e verrà trovata accoltellata per 14 volte però in questo caso verrà anche soffocata suo padre si chiamava Renato e due delle sue vittime me ne si chiamano Renate è una cosa che ho notato anch'io e non solo io devo dire che voglio dare i meriti anche a chi dove l'ho sentita la prima volta che è il canale Crime and Comedy l'ho sentita dalla ragazza che tratta questo podcast che aveva appunto portato alla luce questa assonanza e anche il fatto che l'altra vittima Anna Maria comunque è un nome che somiglia a Maria che è invece la madre così come la quinta vittima ha un nome diciamo un po' simile perché si chiamava Marika Zorzi e Marco la uccide il 6 agosto del 92 quindi sempre pochi mesi dopo e viene trovata sul ciglio della strada uccisa da 28 coltellate Marika aveva anche lei 18 anni e Marco racconterà questo omicidio dicendo che Marika lo avesse preso in giro perché pochi mesi prima nel maggio del 92 a Marco era stato asportato un testicolo a seguito di un tumore quindi un'operazione veramente rischiosa che ancora comunque non lo faceva essere fuori pericolo del tutto a livello oncologico e che aveva mutilato ulteriormente l'autostima di Marco non è dato ovviamente sapere se Marika lo avesse davvero preso in giro per questa cosa quello che è certo è che Marco si sente preso in giro e chiede indietro i soldi a Marika che non glieli vuole dare e lo chiama figlio di puttana a questo punto Marco si arrabbia veramente tantissimo e la coltella con anche qui vediamo un overkilling perché parliamo di 28 coltellate ma dopo l'omicidio di Renate e Troger erano stati apposti in tutta la città tantissimi posti di blocco perché era venuto alla luce che c'era sicuramente un serial un serial che colpiva le prostitute e a seguito di uno di questi posti di blocco Marco viene fermato pochissimo dopo proprio lo stesso giorno dell'ultimo omicidio uscendo da via volta viene fermato da due genti che fermano la sua auto che è nello specifico una Seat Ibiza rossa e trovano delle macchie di sangue nel sedile le imbuttiture di velte e anche il documento della vittima nel baule oltre a uno specchietto retrovisore e anche questo rotto che quello vabbè può essere spiegabile in altri modi ma insomma tutto il resto no perquisiranno la casa di Marco immediatamente e qui troveranno dei riscontri anche per quanto riguarda la calligrafia e anche ovviamente poi quando andranno a confrontare le prove del DNA ritrovate in giro nelle scene del crimine e il DNA di Marco Marco infatti poco dopo confesserà questi delitti ma ne confesserà soltanto tre quindi lui negherà con forza di aver mai ucciso nello specifico Anna Maria Cipolletti e quindi l'insegnante di 41 anni e anche Renate Troger quindi la diciottenne penultima lui diceva appunto di aver ucciso soltanto Marcella, Renate Rauch e Mari Cazzorzi si ipotizzerà durante il processo che avesse potuto uccidere anche altre persone soprattutto concentrandoci sul fatto che dall'omicidio di Anna Maria a quello di Renate Rauch ci sono ben sette anni ma poi verranno scartate queste altre vittime che si chiamavano Anna Maria Rapele una prostituta anche questa uccisa l'8 gennaio del 92 a Trento e una turista fiorentina Adele Barzi il 20 luglio dell'84 a Brunico però non verranno imputati a lui il suo avvocato nel processo e anche nella sua difesa in generale era Giuseppe Piccoli e verrà affidato la perizia psichiatrica d'ufficio al dottor Introna che era il direttore dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'università di Padova un'autorità in questo campo sicuramente che si occuperà di redigere la prima perizia psichiatrica su Marco Bergamo questa perizia andrà a sottolineare l'incapacità di intendere e di volere di Marco Bergamo e questa perizia verrà consegnata al GIP Edoardo Mori il 25 febbraio del 93 il giudice Rispoli però non è assolutamente d'accordo e convoca quindi un altro psicologo che si chiama Enzo Conciatore che basandosi sulla documentazione di Introna arriverà però a una tesi opposta una conclusione opposta quindi lui asserirà che invece Bergamo fosse assolutamente in grado di intendere di volere in questo caso Marco Bergamo viene trasferito dal carcere di Bolzano a quello di Padova dove verrà interrogato di nuovo da Entrona e Conciatore il 5 dicembre del 92 verrà interrogato da questi due dottori nello stesso tempo e verranno riscontrate da questi due delle cose quasi opposte come se avessero periziato due persone differenti perché per Introna i colloqui con Marco si erano svolti in un modo ordinato e disponibile e anche il suo aspetto era secondo lui un aspetto appunto molto ordinato molto serio quando si autodescrive si descrive come una persona molto chiusa intollerante solitaria irritabile senza amici che non ama particolarmente i luoghi affollati e che non tollera le provocazioni ha un'intelligenza nella media e non manifesta una particolare ostilità verso i genitori anche se non manifesta nemmeno chissà che affetto mentre per Conciatore Marco si è rappresentato in una maniera trasandata con una mimica facciale ipomobile quindi aveva poche espressioni facciali uno sguardo vigile che però a volte tendeva a fissarsi anche qui un po' di campanellini e quindi chi era però lucido e anche consapevole di quello che stesse succedendo anche se lui asserirà di non ricordare il momento preciso in cui si scatenava la furia omicida quindi anche qui ricordava tutto tranne quello come come stevanine e per per introna lui aveva un forte un forte disagio a parlare della sua sfera sessuale che secondo l'esperto era il cardine della sua condotta criminosa e che derivava da una dipendenza passiva dai genitori e anche da questa dominanza della figura materna e da questi insuccessi che aveva avuto con con l'altro sesso secondo introna il senso di colpa è presente anche se diciamo non troppo e praticamente secondo lui diciamo anche in trona non 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 crede moltissimo a questi vuoti di memoria e lo attribuisce a una buona capacità difensiva mentre per conciatore erano proprio finzioni quindi lui fingeva di sana pianta questi vuoti di memoria proprio perché sapeva che era una tecnica giusta difensiva quindi però diciamo che il conciatore lascia meno spazio all'interpretazione è più diretto in questo e diagnostica a Marco Bergamo un disturbo di personalità di tipo sociopatico con delle parafilie parafilie nello specifico esibizionismo e feticismo quindi anche del sadismo sessuale che andavano a sublimare questo suo senso di inadeguatezza verso l'altro sesso ci fu anche una collaboratrice d'introna che Carla Bianchera che sottopose Marco Bergamo a un sacco di test psicodiagnostici anche il vice ma anche altri test dove verrà appurato il suo livello intellettivo nella norma una affettività ricca ma immatura e anche impulsiva e un complesso edipico e anche di castrazione accentuato dalla mutilazione del testicolo un'insicurezza nascosta da una risolutezza da una risolutezza ostentata e verrà sottoposto a dei test per vedere se fosse ancora sonnambolo ma questa questa cosa venne diciamo scongiurata perché lui non soffriva più di questi disturbi del sonno che lo colquirono invece soltanto quando era di leva e anche questo mi fa risuonare dei campanellini verrà riscontrato anche nell'apsorisa una delle motivazioni che lo distanzieranno ancora di più dalla società e anche ovviamente questa impotenza psicogena che aveva già prima un'impotenza sessuale dovuta a questo senso di inadeguatezza e accentuata poi da questa da queste esperienze negative e anche dalla mutilazione perché Bergamo frequentava molte prostitute però con loro non aveva mai rapporti sessuali di preneserazione bensì chiedeva loro di spogliarsi e di vendere le mutandine e di fare altre cose comunque riguardanti dei feticismi non dei rapporti sessuali tipici ecco in trona quindi asserirà di nuovo che Marco Bergamo non è capace di intendere di volere mentre per conciatore assolutamente sì quindi nell'indecisione generale verranno affidate di nuovo una perizia a Ponti Fornari e Bruno questi nomi abbiamo già trovati anche in altre perizie che invece lo giudicheranno capace di intendere di volere e faranno sì che la sentenza dell'8 marzo del 94 darà a Marco Bergamo lo condannerà a 5 anni scusate per 5 omicidi all'ergastro non so veramente 5 anni cosa scriveranno nell'ultima perizia scriveranno che Bergamo è giunto alla perversione estrema l'omicidio per godimento dopo il primo assassino ha scoperto che uccidendo appagava il suo piacere e nello stesso tempo distruggeva l'oggetto temuto e odiato la donna per Bergamo uccidere rappresentava e mai l'estrema perversione sadica la modalità più forte per possedere la donna e quindi vediamo come anche qui non viene assolutamente negata la pericolosità sociale perenne di Marco Bergamo e nemmeno i suoi disturbi psicosessuali ma viene di nuovo come diceva Conciatore sottolineata però la sua capacità di intendere di volere sapeva benissimo che faceva qualcosa di sbagliato e secondo Conciatore ciò veniva sottolineato anche dal biglietto che lascerà sulla tomba di Renate Rauch perché in questo biglietto come abbiamo visto parlerà comunque di dispiacere di dovere quindi dei verbi che indicano una presa di coscienza e anche una sorta di legge morale a cui sottostare il 18 aprile del 94 quindi qualche giorno dopo della sentenza la RAI annuncerà la puntata di un giorno in pretura riguardante Marco Bergamo e lo stesso giorno il padre di Marco Bergamo si toglierà la vita verrà trovato dalla moglie che ritorna dalla messa e trova il marito impiccato in soffitta e a seguito di questo suicidio il fratello Luigi di Marco chiederà alla RAI di non mandare in onda il processo del fratello e la RAI consentirà Marco Bergamo morirà all'età di 51 anni nel carcere di Bollate per un'infezione polmonare il 17 ottobre del 2017 e quindi si conclude così la storia di Marco Bergamo Marco come abbiamo visto era una personalità sicuramente atipica con uno sviluppo atipico sin dall'infanzia e sappiamo pochissimo in realtà del fatto se sia o meno stato mai visionato dagli specialisti anche se mi sento di presumere di no perché non viene citato mai questo fatto come abbiamo visto viene preso tranquillamente anche a fare la leva e come possiamo vedere in realtà un disagio era palpabile da sempre e anche come abbiamo visto questo forte ritardo nel linguaggio verrà anche mi ero dimenticata per Fabri questa soprattutto gli verrà somministrato anche il test vice di cui abbiamo parlato nel video sull'alto potenziale cognitivo all'epoca non so di che tipo di batteria si trattasse forse Fabri ce lo può dire parliamo degli anni dei primi anni 90 che anno è qui vediamo 94 93 sì quegli anni lì e praticamente da questo da questa batteria di test si evincerà che lui andava malissimo nell'area verbale e nella comprensione era andato veramente malissimo nel vocabolario e anche nelle analogie non si parla mai di enuresi notturna né di anzi non si parla per niente di violenza nei confronti degli animali perché come vediamo Marco in realtà adorava gli animali poi vabbè ci sono persone che ipotizzano che lui fingesse durante questi test ma mi pare strano che fingesse solo nella parte verbale comunque abbiamo visto che anche il suo modo di scrivere era molto infantile non sapeva utilizzare correttamente i verbi vediamo come Marco Bergamo nella descrizione della sua anamnesi ha molte cose in comune sicuramente con le persone autistiche questo possiamo asserirlo tranquillamente ma non viene mai parlato di questa neuroatipicità quindi è una mia elucubrazione da persona sicuramente non professionista nell'ambito ci tengo sempre a precisarlo perché penso che sia duopo una shit per chi la coglie vi è piaciuto questo caso a me comunque non non mi è dispiace parlarne perché appunto ho trovato tantissime assonanze più leggevo di lui anche se ho trovato veramente poco penso che mi comprerò anche il libro scritto da Paolo Cagnon spero di non aver toppato il nome nel caso mi correggerò e magari farò una piccola digressione se nel libro troverò delle info imprescindibili e utilissime grazie 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 che mi supportate per me è importantissimo ovviamente se avete dei suggerimenti dei casi che vi stanno particolarmente a cuore scrivetemeli prediligendo appunto i casi dove possiamo magari fare qualche digressione riguardo alle neurotipicità quindi mi raccomando sempre non solo complimenti ma anche critiche costruttive perché sono completamente consapevole di dover sempre migliorare tantissimo però se mi sostenete ce la farò sono convinta quindi vediamo che anche questa storia di stasera è veramente tragica per come è anche finita la famiglia con la madre disperata che ha avuto un malore dopo il suicidio del padre il padre che si è suicidato Marco in galera cioè veramente delle storie di avvelenamenti perpetui di male che si perpetra di generazione in generazione che sono brutte da ogni punto di vista noi ovviamente ci concentriamo di più sul carnefice non per togliere qualcosa alle vittime ma perché le vittime non hanno niente da recriminarsi in questi contesti non peraltro ci tengo sempre a ribadirlo Marco Bergamo perché ha anche una fisionomia veramente caratteristica e anche uno sguardo caratteristico se vi capita cercatelo su google per farvi un'idea diciamo che si mi ricorda un po' anche Edmund Kemper anche per il rapporto con la madre e le donne però anche per la fisionomia ho anche un canale telegram che si chiama atipicamente dove potete entrare quello mamma mia lunghissimo come caso al contrario di Marco Bergamo che purtroppo con le info che avevamo è un po' stringato quindi mi rendo conto che è una live più breve del solito perché le informazioni che ci sono sono veramente poche rispetto agli altri e per fortuna anche le vittime non sono così tante come quelle di Donato Bilancia e niente raga io vi vi lascerei andare vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me grazie ancora di essere stati comunque qui con me anche se l'ho fatta senza preavviso vi mando un bacio grandissimo e se volete iscrivermi sempre su Instagram su Facebook sono sempre disponibile a fare due chiacchiere appunto a sentire i vostri commenti i vostri suggerimenti e niente vi mando un bacio vi auguro una buona serata e la prossima live sarà dall'Elva un bacio un bacio e un bacio finalmente ciao ciao un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio un bacio Grazie per la visione!